Stereo 5 TV presenta l'almanacco del giorno in studio Luigi Comentale Oggi il Sant'Omaso Beckett è venerdì 29 dicembre 2023 auguri e festeggiati e buongiorno a voi a Roma il sole sorto alle 7.37 tramonta alle 16.47 ora solare a Milano il sole sorto alle 8.04 e tramonta alle 16.46 luna che tramonta alle 9.45 per levarsi alle 19.03 Proverbio di oggi Sant'Omè cresce il D quando il gallo alza un pie Siamo da Cante il 29 dicembre 1891 Thomas Edison Brevetta alla radio Nel 1901 la Mongolia diventa indipendente dalla Cina In questo giorno del 1934 si gioca la prima partita di pallacanestro universitaria al Madison Square Garden di New York tra Notre Dame e New York È il 64 quando Giuseppe Saragate presta giuramento come quinto presidente della Repubblica Italiana Nel 1978 in Spagna entra in vigore la nuova Costituzione Il 29 dicembre del 1996 il governo del Guatemala e i capi dell'Unione Rivoluzionaria Nazionale Guadamalteca firmano un accordo di pace che pone fine a 36 anni di guerra civile Nati oggi Diego Luna attore, Judy Love attore, Enrico Chiesa calciatore italiano Mentre ci lascia oggi nel 2020 Pierre Cardin stilista italiano E la nostra frase aforisma oggi è di San Paolo Chi crede di stare in piedi guardi di non cadere È tutto a termine il nostro Almanacco Un saluto da Gino Comentale Appuntamento a domani 30 di dicembre Grazie per averci guardati e ciao L'Almanacco torna domani Grazie a tutti Grazie a tutti.